da questo punto di vista, poi può anche sbagliare, però cinque passaggi in croce li facevano stasera i ragazzi è stato, Donale è ben asserto, sono stati in difficoltà a trovare un compagno ma Messias però non analizziamo questo che si vede, qui di Marco è solo, non può essere solo qui come, come il fuoco che un giocatore deve avere quando non avevano il fuoco erano veramente scarsi e poi questo gol per esempio, che ha tagliato le gambe qui non si è che è piccale, l'Inter è stata molto brava ma ci mandano i cali, ci mandano i cali queste le tonali di acquisto, c'è qualcosa che non va, per forza questa ha ragione Cristiana, questa è questione di applicazione di applicazione, ma di persone che non parlano l'Inter è entrata con una cattiveria al campo, pazzesca i primi dieci minuti ha guardato un po' e poi è una punizione è una palla che è in realtà il Giacomo non farà dietro quest'altra le immagini ci commentano poi abbiamo fatto che noi il gacciatore abbiamo fatto degli errori gravi questi sono degli errori che non puoi non puoi fare capito anche no, a vista che il Milan barcollava e hanno accelerato guarda Mito, io spendo poi a dare la responsabilità a quelli forti no, perché è troppo facile no, quelli forti in qualsiasi partite devono aiutare e invece hanno fatto peggio degli altri perché gli unici due che io salverei sono tornare per la terra e quindi grazie